E Marta lo accorse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta presa dei muoi di servizio. Pertanto Marta si avanti e disse, «Signore, non ti vuoi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille comunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose, «Marta, Marta, tu ti creò e piaci per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà fornita». Parola del Signore. L'Opera del Cristo. La parola del Signore. questo Suo essere accolto, questo Suo essere sospitito, guardato e ascoltato. Nella vita di Gesù Antosiana, questo Vangelo, fa ancora al suo sangue il Vangelo che si leggeva in tutte le feste della Madonna, in tutte le feste della Madonna si leggeva questo Vangelo. Così avevi detto che la parte migliore, l'unica cosa che ci stai è che Maria, il Santo Vescello, che vive, si è spesa alla Madonna, che era stata prima scelta, prima per direi, fino a me, come in sé, viva Suo, questa scelta, che si era trovata a lei, si erano quante vicini, più vicino a Dio, perché è l'unica, ma questa unica cosa necessaria. L'unica cosa necessaria aveva preso carne e sangue nel suo ventre, l'aveva portata per non vedessi nel suo ventre, l'aveva portata per non vedessi nel suo ventre, l'aveva portata per non vedessi nel suo ventre. Se si pensa alla Madonna, è evidente, è evidente che l'iniziativa, l'iniziativa non era assunta, che l'era capitata, che accade, secondo quello che hai detto, che l'era accaduta questa cosa. Questa cosa, che traccia il cuore, quest'unica cosa necessaria, che, per ripetere le parola di San Pellostino, che mi piacciono tante, perché sono, sono come una descrizione di, una descrizione che fa, perché tutti gli esperti, che, per ripetere le parola di San Pellostino, che ci sono, che l'uomo non è voluto essere solo. Quest'unica cosa necessaria, quando ambraccio il cuore, abbraccia anche le altre cose. Quest'unica cosa necessaria nel cuore, è l'unica cosa che ci sta al cuore, è l'unica cosa che lo possa, probabilmente, anche naturalmente abbracciare. E quando un cuore, che cosa necessaria, si rende vicina al cuore, si rende presente, ma su cuore. Allora, il cuore, abbracciare. E se lo così, con il vento, abbracciare anche le altre cose. Non mi esclude nulla. Quest'unica cosa necessaria, rende possibile, rende possibile abbracciare le cose. Quest'unica cosa necessaria. E' lì, sono stato con un pastire, a celebrare la Messa, con i 14 anni, che è morto da un tuo massimo. E sull'immaginamento, poi, in Cinta, ovviamente, soprattutto, conosce, chi ha conosciuto da un tuo massimo. Quindi, poi ci vedo, quando scrivere alcune sue parole, scrive quando, quando, in Grecia, hanno dato un'ultima di mezzo della sua malattia. e dice, perciò ti cerco, Padre, Padre Cristo, Padre di Gesù Cristo, perciò ti cerco, come uno che si è scaricato per il mio. Ti cerco, come un bambino. Io ti cerco, come un bambino, cerca la Padre, che si è morta nata, mi stai. Chiedo la tua presenza al mio cuore. Chiedo la tua presenza al mio cuore. Ricorda tu? Ricorda tu. Chiedo la tua presenza al mio cuore. Quando vi stiamo aiutando. Chiedo la sua presenza al mio cuore. Chiedo la tua presenza al mio cuore. Quando la sua presente, e ci ulteriore al mio cuore. Quando affincio il mio corpo e il cuore, quanto abbraccio il mio corpo e il cuore, allora in questo video tutto è possibile.